la testimonianza di un medico usca che visita i malati covid a casa per loro spesso siamo l'unico supporto nella solitudine della malattia ho contratto il virus dice e questa esperienza mi ha insegnato molto il giardino di infanzia di tirano è la prima scuola chiusa per covid in provincia il presidente una suora e positiva quarantena nella piccola comunità religiosa misura precauzionale a tutela dei bimbi la valtellina piange la scomparsa di sergio bonvini presidente onorario della cri e socio di unità alzi una vita dedicata agli altri la sua senza mai risparmiarsi la mia è una missione diceva un video del parco delle robbie racconta per immagini la bellezza delle aree protette della nostra provincia il presidente codega un biglietto da visita per promuovere un turismo a impatto zero buonasera e ben trovati a tutti i telespettatori di unica sondrio le usca una task force di nove medici che si recano a casa dei malati covid quelli che non hanno avuto bisogno del ricovero o che dall'ospedale sono usciti persone costrette comunque all'isolamento per le quali la visita a domicilio spesso è un supporto prezioso una giovane dottoressa ci racconta la sua esperienza umana e professionale ascoltiamola usca unità speciali di continuità assistenziale sono i medici che vanno a casa dei malati covid per una visita un tampone un'ecografia polmonare il servizio istituito da ats in aprile attivabile solo su richiesta dei medici di base ora registra un forte incremento l'obiettivo se possibile è gestire il paziente a domicilio alleggerendo la pressione sull'ospedale spesso sono pazienti anziani pazienti fragili pazienti in condizioni sociali o socio economiche spesso svantaggiose che si trovano in difficoltà non solo di salute si trovano in difficoltà per l'approvvigionamento del farmaco per i controlli medici per altre patologie che hanno già sul territorio quindi persone che hanno il diabete persone cardiopatiche persone con malattie neurodegenerative quindi vediamo un po di tutto non sono solo pazienti anziani ci sono anche giovani disabili e persone di 40 50 anni le visite possono arrivare a 10 al giorno passiamo da momenti in cui la persona è spaventata perché si immagina di vedere arrivare il medico classico e invece si vede arrivare una persona con una tuta con una visiera con i doppi guanti che posa tutta distanza mantiene le distanze e quindi comunque all'inizio un po di distacco un po di paura ci sono invece persone che ci vedono veramente come supereroi ci vedono arrivare ci vedono come un sollievo ci vedono come le uniche persone con cui loro si interfacciano fisicamente che possono rispetto agli altri accorciare un po quelle distanze obbligate dal covid fondamentalmente il vostro dunque un intervento medico clinico ma anche di supporto psicologico prezioso di sopporto psicologico sia per il paziente che per le famiglie famiglie che hanno in casa il paziente anziano che magari è già debilitato per le sue patologie pregresse per di più diventa positivo ci troviamo in una situazione dove le persone si vedono un po crollare quel poco di equilibrio che hanno creato la dottoressa livieri tirocinante a lei stessa conosciuto la malattia quando sono stata in isolamento obbligato in quarantena ho sempre promesso che avrei aiutato le persone nella mia stessa condizione perché non avere contatti con nessuno per 40 giorni è stata un'avventura pesante e abbastanza difficile dall'altra parte a livello medico sto imparando un sacco perché mi interfaccio con colleghi colleghi ospedalieri colleghi del territorio colleghi indubbiamente più esperti di me dall'altra parte a livello umano mi dà tanto il fatto di conoscere tante persone e di sentirmi un appoggio per loro anche il direttore generale di ats della montagna lorella cecco nami è risultata positiva al covid l'esito del tampone è giunto nel tardo pomeriggio di oggi rende noto l'ufficio stampa dell'agenzia tutela della salute che aggiunge il direttore si trova come da procedura in isolamento fiduciario benché sintomatica le sue condizioni di salute sono buone ma impongono comunque l'assoluto riposo almeno per qualche giorno rinviata così all'inizio della prossima settimana fanno sapere da via sauro la conferenza stampa online che era stata programmata domani per fare il punto sulla situazione della pandemia nel territorio al direttore ceconami da teleunica i migliori auguri di pronta guarigione a tirano il primo caso di scuola chiusa per covid si tratta del giardino d'infanzia nessun positivo tra i bimbi e neanche nel personale direttamente a contatto con loro spiega la fondazione è una misura precauzionale presa per un caso emerso tra le suore della comunità che vive nello stesso stabile covid chiuso il giardino d'infanzia di tirano che ospita 180 bambini 130 della scuola materna 30 della sezione primavera 20 all'asilo nido meglio un eccesso di prudenza così il presidente della fondazione spiega il provvedimento essendosi rivelato un caso di positività all'interno della comunità delle suore che abitano naturalmente separate ma all'interno della stessa scuola e la suora che è risultata positiva naturalmente vive in comunità unitamente alla direttrice e alla coordinatrice che quindi loro circolano nella scuola chiaramente ho ritenuto in via prudenziale di sospendere le attività della scuola fino alla fine della prossima settimana anche per vedere gli eventi e per capire se per caso sia la coordinatrice che la direttrice avessero dei sintomi anche loro da covid e poi eventualmente si prenderanno ulteriori provvedimenti per il momento ripeto è solo una cosa molto precauzionale che abbiamo fatto perché volevo avere la mettere in sicurezza prima di tutto i bambini che sono la cosa più importante per la nostra scuola suore in quarantena dunque personale ai bambini a casa che messaggio rivolge alle famiglie ecco io rivolgo il messaggio alle famiglie innanzitutto mi scuso per la per l'improvvisa presa di decisione ma purtroppo quando io ho saputo nel pomeriggio di martedì il problema che c'era all'interno della comunità dopo essermi confrontato anche con i miei consiglieri abbiamo deciso che via prudenziale dovevamo fare questa questa scelta e quindi appunto chiedo scusa alle famiglie per la non tempestività ma voglio rassicurarle che stiamo tenendo molto sotto controllo tutta la situazione naturalmente sempre per garantire la sicurezza della scuola e la sicurezza per i bambini la provincia di Sondrio perde un uomo simbolo del volontariato si è spento Sergio Bonvini presidente onorario della Croce Rossa di cui faceva parte dal 1962 socio e collaboratore di Unità Alzi Ligari d'Argento nel 2016 la presidente Crigualteroni lascia un'eredità preziosa avrebbe festeggiato 86 anni proprio oggi ma il coronavirus l'è portato via a poche ore dal suo compleanno il mondo del volontariato ma la valtellina più in generale piangono la scomparsa di un uomo che ha dedicato la sua vita agli altri si è spento gettando in un profondo dolore i figli Loredana Corrado e Giovanni e lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto Sergio Bonvini presidente onorario del comitato provinciale della Croce Rossa dove era entrato nel 1962 come volontario autista soccorritore per diventare poi istruttore di guida delle ambulanze fino ad essere consigliere vicepresidente senza perdere mai il contatto con i giovani che ha formato concorsi e lezioni sul codice etico e i sette principi fondanti della Croce Rossa. Bonvini premiato dal comune di Sondrio nel 2016 con il Ligari d'Argento, socio e prezioso collaboratore dell'Unitalsi di Sondrio, d'appassionato radio amatore nel 1987 aveva gestito le comunicazioni dalla prefettura favorendo il coordinamento dei soccorsi per l'alluvione. Grande la sua emozione quando in occasione della festa della CRI avvenuta a maggio del 2016 in piazza Garibaldi gli era stato conferito il riconoscimento di presidente onorario della Croce Rossa di Sondrio. Sono rimasto così come sono partito e basta, è chiuso. Sempre a disposizione che ha bisogno e basta, è chiuso. Per me la mia vita è quella. Perché ha stabilito questo forte legame con la Croce Rossa? 50 anni che lei si dedica agli altri. Beh, è una scelta di vita. Ho scelto di stare vicino a chi ha bisogno e basta. Nient'altro. quello che dico a tutti i miei amici con cui ho a che fare, a chi esprimo il mio pensiero, lo dico sempre a tutti. Essere vicino che ha bisogno e basta. Nient'altro. Questa è una scelta di vita. Un bel applauso, un bel applauso. E lascerà di sicuro un grande vuoto. Sergio ha dato molto, tante, tante persone in Croce Rossa. È stato un elemento di spicco, sempre un punto di riferimento. Ci mancherà Sergio Bonvini, mancherà il suo sguardo umano e benevolo, il suo garbo, la sua capacità di donarsi agli altri in maniera disinteressata e generosa. Sergio, mi raccomando, continua sempre dall'alto a seguirmi come hai fatto. Prega per noi, perché lui pregava per la Croce Rossa tutte le mattine. Mi mancherà tanto. Al telefono si era spacciato per un poliziotto e aveva proposto l'acquisto dell'annuario ufficiale della Polizia di Stato. Ma il maldestro tentativo non ha avuto successo. Così un 42enne di Reggio Calabria è stato deferito all'autorità giudiziaria dalla squadra mobile della Questura di Sondrio a seguito di denuncia presentata da una cittadina residente nel capoluogo e su delega del procuratore della Repubblica facente funzioni, Elvira Antonelli. Le accuse a suo carico sono sostituzione di persone tentate a truffa. L'individuo, già noto per specifici precedenti penali di polizia, nel novembre di due anni fa, qualificandosi come appartenente alla Polizia di Stato, aveva contattato la donna per telefono proponendole l'acquisto della pubblicazione. Riscontrato l'interesse, aveva concordato il pagamento in contrassegno dell'annuario, ma la potenziale acquirente, dopo aver verificato che il soggetto era estraneo alla Polizia, nelle successive chiamate di conferma negava l'ordine, segnalando il fatto alla Questura che ha attivato le indagini, riuscendo oggi a risalire alla identità del sedicente venditore. Solo con l'innovazione costante, un modello efficiente di business e anche con una forte identità condivisa, le aziende possono affrontare con successo le congiunture più difficili. È il caso del gruppo Autotorino, insignito per il terzo anno consecutivo del premio Industria Felix. Vediamo. È tra le prime 15 imprese in Italia per performance gestionali e affidabilità finanziaria del settore commercio. Per il terzo anno consecutivo, Gruppo Autotorino, top leader del settore auto per dimensioni e fatturato, è stato insignito dell'alta onorificenza di bilancio col premio Industria Felix, l'Italia che compete, istituito nel 2015 e rivolto alle imprese che danno un apporto positivo attraverso la continua creazione di posti di lavoro, gli standard gestionali del business e il progresso del tessuto socio-economico del territorio dove operano. Dopo aver ricevuto per due anni l'onorificenza tra le aziende lombarde, in questa edizione del premio Industria Felix, il gruppo valtellinese è stato inserito nel novero nazionale. Il riconoscimento di quest'anno, commenta Stefano Martinali, consigliere delegato e direttore generale di Autotorino, è ancora più importante dei precedenti in ragione della tristezza che ci accompagna da mesi per la pandemia in corso. Il raggiungimento di questo premio è la sintesi del lavoro del team, la validità del pensiero di azienda che sta alla base di Autotorino e la capacità di trasformarlo in azione. Nel tempo questi elementi hanno dato stabilità al risultato economico aziendale, pur in presenza di un mercato molto instabile. I criteri che determinano l'assegnazione del premio si basano su un algoritmo di competitività valutato dal comitato scientifico sulla base dei bilanci depositati e del Cerved Group Score, l'indicatore di affidabilità finanziaria di una delle più importanti agenzie di rating in Europa. Mi piace condividere il premio anche con i nostri clienti, prosegue Martinali, che ci attestano ogni giorno la loro soddisfazione per i servizi offerti e le comunità in cui operiamo, dove cerchiamo di essere promotori di occupazione e sviluppo. Gli scenari economici e ambientali in evoluzione intanto prospettano un concetto nuovo di mobilità. Per questo, conclude Martinali, promuoviamo investimenti e sperimentazioni che dovranno mantenerci competitivi e interlocutori capaci di intercettare le opportunità del nuovo mercato. Nato nel 1965, Autotorino oggi rappresenta otto gruppi automotive attraverso una rete di 52 concessionari ufficiali presenti in 20 province di 5 regioni. Un assetto raggiunto a seguito della fusione realizzata nel 2019 con Autostar S.P.A., con un fatturato che lo scorso anno è stato di oltre 1 miliardo e 200 milioni e la vendita di 52.800 auto. Far conoscere i polmoni verdi presenti sul nostro territorio, promuovere il rispetto per la natura e il turismo ecocompatibile. Questi gli obiettivi che il Parco delle Orobie Valtellinesi ha racchiuso dentro un video davvero suggestivo. Vediamo. Un viaggio per immagini spettacolari. In sette minuti si possono ammirare e scoprire le aree protette della provincia di Sondrio. Il filmato realizzato da Elio Dalla Ferrera con riprese aeree di Simone Polattini è un progetto sostenuto e fortemente voluto dal Parco delle Orobie Valtellinesi. Nel video compaiono anche le foto dell'ermellino e della lepre bianca scattate da Adriano Turchati. Per descrivere tutte le aree protette della provincia di Sondrio, anzitutto come finalità del Parco delle Orobie Valtellinesi è quello di promuovere e tutelare gli ambienti naturalistici del nostro territorio. E con questo video siamo andati anche oltre ricomprendendo tutta la provincia di Sondrio in cui ci sono dei bellissimi ambienti, parchi, monumenti naturali, parchi di interesse sovracomunale, zone di protezione speciale. Abbiamo voluto ricomprenderle tutto con questo video che penso guardandolo si presenti da solo. Presenti da solo le bellezze del nostro territorio. Aree protette che sempre di più sono integrate e dialogano fra loro. Sì, l'abbiamo fatto un po' con questo spirito, cercando di mettere a fattore comune tutte le aree protette della provincia di Sondrio, soprattutto per farle conoscere ancora di più alla comunità locale, perché comunque, conoscendole, apprezzandole, capiamo che è una risorsa importante, va tutelata e va anche magari divulgata al di fuori della provincia di Sondrio. Anche grazie a eventi di livello internazionale come il Sondrio Festival. Sì, abbiamo approfittato di questa occasione per presentare questo film documentario all'interno della piattaforma digitale di Sondrio Festival unito alla presentazione dei corridoi ecologici, quindi quella serie di connessioni che possono mettere a fattore comune e fare sistema tra tutte le aree protette della provincia di Sondrio. Si va nella direzione sempre più di un turismo ecosostenibile? Sì, e questo siamo, ci vede molto favorevoli a questo tipo di turismo, un turismo sostenibile, un turismo quindi non frettoloso, che sappia accogliere gli aspetti positivi di un territorio come il nostro, magari anche del Parco delle Robe, che è un po' selvaggio, che però permette di vivere in maniera tranquilla, veramente naturale. Autunno caldo sul fronte dei lavori pubblici, numerosi cantieri presenti sulle strade, anche a Dubino, si procede alla messa in sicurezza delle strade comunali, ci si appresta a migliorare l'accesso al palazzo comunale e per i più piccoli arriva il Parco Giochi che diventa inclusivo. Autunno caldo per le opere pubbliche a Dubino, in corso in questi giorni lavori di asfaltatura di alcune strade dissestate, mentre è pronto a partire l'intervento di abbattimento delle barriere architettoniche per rendere accessibile a tutti il palazzo comunale. E per i più piccoli si lavora per rendere il Parco Giochi delle Scuole inclusivo a beneficio di tutti i bambini. Noi tutti gli anni predisponiamo un progetto che varia dalle 70 alle 80 a 90 mila euro di manutenzione di un tratto di strade comunali in maniera tale da averle sempre in ordine. È iniziato pochi giorni fa il lotto relativo al 2020, quello che è in corso di esecuzione, che è un importo pari a 90 mila euro, omnicomprensivo, e che vede la sistemazione di diverse strade comunali. Pronti a partire anche i lavori che riguardano invece il municipio? Assolutamente sì. Se le asfaltature sono partite da quattro giorni, direi che fra altre tanti o poco più partiranno i lavori di sistemazione del municipio. Difatti col piano Fontana, quello di questa primavera, che prevedeva un contributo di 200 mila euro per il nostro comune, abbiamo deciso di investirli per sistemare una faccenda che mi stava proprio a cuore. ed era quella di eliminare le barriere architettoniche del nostro municipio. Difatti andremo a realizzare un ascensore per permettere l'accesso agli uffici e ai piani superiori, al piano ammezzato, e andremo ad eliminare tutte le barriere architettoniche dei servizi igienici, tutti i percorsi orizzontali. Non da ultimo, con questo ascensore, chiaramente arriveremo anche all'ultimo piano del nostro municipio, dove c'è la sala consigliare. Quindi anche tutti quelli che vorranno partecipare alle sedute consigliari, adesso lo potranno veramente fare. Prevista la creazione di un parco giochi inclusivo, dove già sorge l'area per i più piccoli in prossimità delle scuole elementari, un luogo di incontro e di divertimento a misura di tutti i bimbi. Proprio in queste settimane, l'ufficio tecnico, codiovato dai miei assessori, che sono Valentina Nogara e Angelica Giambelli, stanno predisponendo un progetto per realizzare un parco giochi inclusivo, quindi con giochi accessibili anche a bambini con una diversa abilità. Il percorso di Montagna 4.0 Future Alps continua e venerdì 20 novembre farà tappa a Sondrio. La giornata formativa organizzata dalla Società Economica Valtellinese prevede tre momenti al mattino le attività con gli studenti. Nel primo pomeriggio il confronto con operatori e stakeholder. Dalle 17.30 la plenaria che si potrà seguire in streaming su YouTube. Tema centrale la mobilità alpina del futuro con un occhio attento a residenti, turisti e imprese. Era la nostra ultima notizia. Grazie di cuore per essere stati con noi. A tutti voi buona serata.